in italia non si fanno più figli il 59 per cento delle donne tutti i tuoi social sono diventati la principale fonte di informazione per sapere tutto sul tuo bambino angeli ballano il rock ora tu non sei un sogno tu sei vera non c'è gentile come l'aria feconda come la terra impetuosa come l'acqua adesso mi chiedo cosa sia una donna se è una madre e cosa realmente sia una madre non c'è Grazie per la visione!